buona sera benvenuti siamo già a piazza del loreto con la grafica benvenuti alla quinta puntata dell'altra storia d'italia con lamberto rimondini ciao lamberto ciao arturo buonasera a tutti è talmente tanta la voglia di arrivare alla fine di questo racconto perché la grafica di piazza del loreto è uscita già per ben due volte però partiamo ecco da un po prima perché questa puntata intitolata alla fine di un'epoca parte con lo sbarco degli americani in sicilia che come nello sbarco di garibaldi pare abbiano avuto un appoggio ecco dalla tessuto mafioso non solo della capitale ma addirittura anche quella dei nuclei delle cellule oltreoceano prego con il primo segnalibro ecco come avevamo annunciato l'armata mafiosa perché tu scrivi nel tuo libro riporti che un ruolo importante è bella mafia giusto sì assolutamente direi fondamentale penso che questa sera gli argomenti che tratteremo saranno sicuramente oggetto di molto parlare durante e dopo perché ho intenzione di svelare cose abbastanza scomode anzitutto se parliamo dello sbarco in sicilia lo sbarco in sicilia ha successo peraltro è un'operazione militare imponente ben più imponente di quello che è stato lo sbarco in normandia non ce l'hanno raccontato in dettaglio ma è di fatto la prima volta che gli alleati attaccano le forze dell'asse quindi hanno timore di fallire e quindi muovono centinaia e centinaia di mezzi e uomini e non hanno vita facile minimizzano il disastro che hanno subito detto questo lo sbarco avviene grazie al contributo sostanziale della mafia ma perché c'è questo aiuto perché l'acchi luciano in prima persona si muove per aiutare gli stati uniti e gli alleati bisogna fare un passettino indietro siamo nel 1942 le spie diciamo della germania e nostre spie italiane sono disseminate nel porto di new york e stanno preparando lo sbarco negli stati uniti nessuno questo l'ha mai raccontato germania italia si stanno attrezzando per sferare un attacco a sorpresa e l'intelligence statunitense lo ss ne viene a conoscenza e quindi per risolvere questo problema che sarebbe sul piano psicologico devastante per gli statunitensi che non sono abituati ad avere la guerra in casa l'intuizione addirittura del presidente degli stati uniti roosevelt e quella di coinvolgere la mafia quindi mafia che controlla il porto di new york in buona sintesi affidano ai mafiosi italo statunitensi il compito di snidare tutte le spie la pulizia che fanno è capillare e quindi questa collaborazione con la mafia italiana si consolida e quando c'è lo sbarco in sicilia e vengono di nuovo in pista imamma santissima in particolare l'acchi luciano con il suo stuolo di personaggi tra cui c'è anche un picciotto di fiducia di l'acchi luciano che è il papà di un nostro presidente della repubblica scusami e chi sarebbe questo la prima rivelazione ce la devi dare però una domanda volevo farti velocissimi è così non voglio rubarti il tempo però quell'attacco a cui facevi riferimento è quello piano che mi pare comprendesse l'utilizzo di un sommergibile per risalire il fiume attacco in massa di U-Bot con lo sbarco di unità speciali sia della Folgore e sia diciamo dei paracadutisti tedeschi è un'operazione interessante viene sventata anzitempo ecco quindi volevo sapere se ti riferivi a quello ma ci hai annunciato che il papà di un presidente della repubblica nei rapporti con l'acchi luciano adesso vogliamo sapere chi è beh vorrei evitare di avere querele a pioggia è un noto presidente della repubblica italiano ah ho capito ma ma provo abbiamo vinto i mondiali durante la sua presidenza è tutto documentato abbiamo vinto abbiamo vinto i mondiali chiedo durante la sua presidenza no quello è pertini pertini banalmente è un assassino non è come se lo hanno raccontato ma ne parliamo dopo dopo lo prego vai avanti pure e concludi pure il segnalibro beh la collaborazione per quanto riguarda lo sbarco in Sicilia della mafia è interessante perché non si limita a favorire lo sbarco e il successo e quindi la penetrazione nell'entroterra siciliano bensì procede e si concretizza ne parlo molto in maniera dettagliata nel primo volume perché ci sono gli accordi che vengono fatti dopo lo sbarco quindi questi soggetti mafiosi si accordano con i vertici dell'esercito statunitense e lo scopo è quello di infilare nelle istituzioni che saranno poi repubblicane i loro uomini quindi in tutti i partiti non c'è un partito che si salva in tutti i partiti mettono i loro uomini quindi fanno un accordo con un personaggio che si chiama Max Corvo che è un agente di cui parlo anche in questo caso parecchio e è un altro dell'esercito statunitense proprio dedicati agli affari civili quindi si svela e si documenta una parte direi sostanziale della nostra storia esatto e quindi questi uomini diciamo della mafia che aiutano preparano il terreno per lo sbarco in sicilia poi tu dici pian piano verranno infiltrati nei partiti ma avranno poi un ruolo anche nella deposizione finale di Mussolini perché non dimentichiamoci che il rapporto tra la mafia e la massoneria in questo caso insomma è stato più che mai più che mai intenso e quindi io direi passiamo subito al secondo segnalibro e vediamo il ruolo che poi questi uomini hanno avuto per la fine del fascismo ecco perché poi si arriva appunto dopo lo sbarco al famoso 25 luglio del 43 quando il gran consiglio del fascismo vota la sfiducia a Mussolini dopodiché lui incontrando dopo l'incontro con il re sarà arrestato ma insomma chi è che ha portato a questa conclusione quali sono le forze politiche o non magari ecco così limpidamente politiche che hanno agito perché si arrivasse a questa soluzione c'è un intreccio interessante le stesse forze che hanno finanziato l'avvento del fascismo in Italia sono le stesse che gli tolgono fanno di tutto per togliere il consenso quindi c'è una parte politica anglo statunitense c'è una parte finanziaria anglo statunitense c'è una parte di massoneria e quindi di soggetti in Italia che sono connessi a queste forze nello specifico quando c'è la seduta del gran consiglio del 24 luglio all'ordine del giorno ci sono una serie di mozioni quella che è passata la storia quella di Dino Grandi che raccoglie 20 firme su 28 ma non è la prima volta che accadono eventi simili durante le sedute del gran consiglio che cos'è che fa diciamo notizia è che solitamente Mussolini quando ci sono le riunioni del gran consiglio ascolta tutte le varie emozioni e poi ne fa una lui di sintesi e quindi viene votata sempre l'unanimità in questo caso la scelta che lui fa lui Mussolini non è quella di fare una mozione di sintesi ma di far mettere ai voti la mozione di grandi affinché il gran consiglio si prenda la responsabilità politica di far andare in crisi il regime e Mussolini lo dice quindi come diciamo c'è lucidità estrema nell'atto che si sta compiendo non è casuale e infatti la reazione è abbastanza scomposta tant'è che qualcuno dei venti firmantari nelle ore successive fa retromarcia ma non è tanto questo il punto i passi successivi sono che viene poi a maturarsi la votazione durante la notte tra il 24 e il 25 luglio passata la storia come il gran consiglio il 25 luglio e il giorno successivo alle 17 e 20 Mussolini si reca a Villa Savoia ma è già tutto organizzato ci sono 50 carabinieri in borghese mimetizzati dietro le siepi c'è tutto l'entourage che è pronto a compiere questo gesto in orchestra il re con Londra e con gli ambienti che fino a quel momento lo avevano sostenuto Mussolini Mussolini sarà poi arrestato e sarà portato a campo imperatore in Abruzzo e operazione diciamo magistralmente gestita quella della sua liberazione da Scorseni e dal gruppo di paracadutisti tedeschi morale da lì da pratica di mare viene portata a pratica di mare da pratica di mare va a Vienna in aereo poi a Monaco e infine a Rastenburg dove lo attende Hitler e da lì inizia la vicenda della repubblica sociale e Grandi nella sua mozione aveva intenzione di far tornare l'Italia allo statuto ebertino facendo rinunciare a Mussolini al comando delle forze armate ridando al re lo scettro di decisione di chi affidare la presidenza del consiglio è un modo diciamo roccambolesco anche volendo di cercare di scaricare delle responsabilità e di cercare di dare al re le sue perché il re dobbiamo ricordarcelo fino a quel momento cerca di mantenersi lontano in realtà il re è quello che promulga le regi razziali il re è quello che appoggia in maniera direi senza opporsi tutto quello che è stato nel bene e nel male il regime quindi è giusto che visto quello che puoi fare nelle ore successive e nei giorni successivi qualche responsabilità gli venga data Certo e tu hai accennato che dopo questa vicenda peraltro è anche un po' secondo me ancora da chiarire proprio quell'atteggiamento che tu hai sottolineato di Mussolini che non redige lui stesso un ordine del giorno sintetico di tutti gli ordini del giorno ma fa votare proprio l'ordine grande l'ordine del giorno grandi secondo me è ancora un aspetto un po' da chiarire anche della personalità di Mussolini che sostanzialmente fa una prova del fuoco cerca di capire se ha ancora l'appoggio del gran consiglio però stranamente in quel caso non ha tentato colpi di mano ma tu accennavi che dopo quella fase di prigionia si viene liberato dai paracadutisti tedeschi si costituisce quella che è la famosa Repubblica di Salò e da lì inizia un'altra guerra di fatto inizia quella che poi è passata la storia come di fatto una guerra civile esattamente con il terzo segno libero ecco un popolo dilaniato proprio perché come dicevamo da un lato ci sono di fatto ecco gli alleati tedeschi che sempre meno si fidano dell'Italia anche delle sue capacità belliche dall'altro ci sono invece gli anglo-americani che risalgono la penisola compiendo magari in più occasioni anche quelle famose marocchinate passate alla storia quindi insomma c'è una vessazione della popolazione da parte degli due eserciti che di fatto sono occupanti comunque c'è in ogni caso una guerra combattuta sul territorio italiano e spesso proprio tra soldati italiani di fatto in poco più di due anni circa sì più o meno due anni assistiamo veramente a una guerra civile cruenta senza esclusione di colpi che continua anche dopo il cessato in fuoco del 2 maggio purtroppo allora gli anglo-statunitensi hanno un problema che è diciamo di consenso e politico Mussolini ha il 98.8% di consenso questo determina la scelta criminale di Winston Churchill di bombardare i quartieri civili già durante la firma dell'armistizio quindi nel settembre del 43 se fosse stato un soggetto non dico moralmente corretto e onesto non avrebbe fatto il mestiere che ha fatto però è normale pensare che se tu stai facendo un armistizio con uno stato con cui fino a due minuti prima eri in guerra eviti di bombardare i quartieri civili invece Churchill proprio in concomitanza e da lì in avanti in maniera sempre più intensiva di giorno e di notte fa bombardare i quartieri civili italiani ma lo fa anche in Germania ovviamente in Italia noi guardiamo alla nostra Italia il numero dei morti è esponenziale dall'armistizio in poi quindi dobbiamo ricordarcelo quando qualcuno dice ci hanno liberato in realtà hanno assassinato milioni di persone ma è un'altra storia tanto è che c'è questo aspetto dei bombardamenti come hai accennato tu ci sono le marocchinate che sono solo uno dei tanti eventi tristi cioè sempre gli angolo statunitensi erano convinti che nella zona di Cassino del monastero di Cassino ci fosse chissà quale roccaforte tedesca in realtà c'erano i monaci c'erano degli sfollati quindi si accaniscono sul monastero di Monte Cassino e cadono migliaia e migliaia di bombe per espugnare Cassino c'è una linea che si chiama linea Gustav che gli alleati non riescono a passare e quindi a un certo punto si fa strada l'idea di un certo generale Juen che è al comando delle truppe marocchine che sono in Italia inquadrate con l'equipaggiamento britannico e Juen dice a queste truppe marocchine avete 50 ore di assoluta libertà potete commettere tutti i reati che volete se riuscite a rompere la linea di difesa e non avete quindi penalità non sarete perseguiti i marocchini passano il problema è che ci sono circa 100.000 donne stuprate anche uomini vecchi, anziani fioccano le denunce ai carabinieri ci sono una marea di donne che si suicidano per la vergogna una marea di aborti sifilide e quant'altro quindi la zona della ciocceria in particolare è colpita poi questi soggetti continuano e lo fanno anche nel sud della Toscana tanto per ricordare chi sono queste truppe marocchine del generale Juen ma non basta noi abbiamo in periodo bellico poco meno di 500.000 morti 472.000 e qualcosa dal 10 giugno 1940 al 2 maggio 1945 che è l'ultimo alle ore 14 si finisce la seconda guerra mondiale chi ci fa festeggiare la seconda guerra mondiale il 25 aprile o non sa che cosa sta festeggiando oppure mente sapendo di mentire noi il 25 aprile non dobbiamo festeggiare la fine della seconda guerra mondiale perché non finisce in Italia la seconda guerra mondiale il 25 aprile perché dico questo con una certa ironia perché tanto per capirci Mussolini viene assassinato il 28 quindi saremo già a più 3 a Caserta viene firmato l'armistizio il 29 quindi più 4 e il cessato il fuoco è il 2 maggio 1945 alle ore 14 quindi siamo a più 7 se noi festeggiamo il 25 aprile è perché non ci hanno raccontato che nello stesso giorno 25 aprile 1945 Henry Truman il nuovo presidente degli Stati Uniti fa il primo discorso inaugurale alle Nazioni Unite all'ONU a San Francisco e in quel discorso cita l'Italia la cita però in una maniera abbastanza antipatica perché in buona sintesi dice che l'Italia deve piegarsi all'elite finanziaria che ha vinto e che ha determinato un po' la nostra storia quindi il finito risorgimento il finanziamento essere trascinati nella prima guerra mondiale il finanziamento al fascismo il finanziamento alla resistenza sempre dallo stesso salvadanaio l'eterodirezione della prima repubblica non dimentichiamoci che è stato assassinato Moro la strategia della tensione è sempre questo salvadanaio che c'è dietro e noi ogni 25 aprile o meglio chi lo fa ignaro rende onora a sta gente quindi ci ho la lela al naso per farlo detto questo noi siamo in una guerra civile dal 1943 al 1945 ma lo siamo anche dopo perché dico questo allora intanto facciamo un'altra apriamo un'altra parentesi quanti sono i morti secondo le tabelle ufficiali degli alleati quindi insospettabili i tedeschi hanno rastrellato e ucciso 7142 persone i militi della repubblica sociale 566 tedeschi e militi della repubblica sociale insieme 1849 tedeschi e ustasha quindi croati inquadrati nelle SS croate hanno il simbolo delle SS da una parte e lo scudetto a scacchiera bianco e rosso dall'altra ne hanno fatti fuori 26 di italiani poi che non sta bene dirlo i tedeschi e gli ucraini hanno ammazzato 20 italiani durante i rastrellamenti tra il 43 e il 45 totale 9603 persone sono tanti sono tanti peccato che Togliatti incontra il 30 maggio 31 maggio 30 maggio del 45 Kostilev che è l'ambasciatore sovietico in Italia e viene intercettato nel primo volume riporto l'intercettazione che viene fatta e Togliatti dice a Kostilev ne abbiamo già ammazzati più di 50 mila chi sono questi 50 mila ammazzati in tempo di pace cioè tra il 3 maggio e il 31 maggio i figli le figlie di qualcuno che ha avuto la tessera del PNF partito nazionale fascista e che dava fastidio per qualche ragione li hanno portato via la terra eccetera quindi siamo a 9.603 morti frutto dei rastrellamenti di tedeschi e Repubblica Sociale e Ucraini e Ustascia e dall'altra abbiamo solo nel mese di Maso il 45 più di 50 mila morti però siamo in tempo di pace non in tempo di guerra alla fine il conto è di circa 300 mila morti nel nord Italia in particolare fino a tutto il 1947 quindi alla faccia quindi quando qualcuno viene a raccontare che durante gli ultimi due anni di guerra i tedeschi e la Repubblica Sociale hanno fatto tante stragi è vero ci sono le prove di 9.603 morti però bisogna contare anche gli altri peccato che gli altri sono stati ammazzati in tempo di pace tu hai citato Togliatti mi dicevi prima mi anticipavi che però ci sono anche altri attori insospettabili proprio in questo periodo che va dal 43 diciamo pure fino al 47 insomma allargando il conflitto poi a quello che effettivamente è stato il periodo belligerante perché la guerra civile come giustamente sottolineato non si è chiusa nel 25 luglio scusami nel 25 aprile né il 2 maggio del 45 ma è andata oltre si è andata oltre diciamo ci sono tre presidenti della Repubblica che è carino ricordare per le loro gesta allora in ordine cronologico il primo è Pertini noi abbiamo conosciuto il Pertini con la pippa durante i mondiali dell'82 però c'era anche un Pertini che fa uccidere Osvaldo Valenti e Luisa Ferida che sono lui un attore famoso durante il ventennio e lei un'attrice nonché compagna incinta all'ottavo mese quando il partigiano raggiunto dal telefono da Pertini dice ma non hanno fatto nulla questi due bisogna lasciarli andare poi lei è incinta Pertini insiste se non li uccidi io uccido te quindi questo è Pertini Pertini è anche un agente dell'Osna e quindi servizi segreti della ex Jugoslavia lui in rapporti strettissimi con Tito e quando diventa presidente della Repubblica fa degli atti che vanno a graziare sedicenti partigiani che in realtà erano degli stupro bambine questa parte di Pertini non ci è stata raccontata ci è stata messa ma c'è anche questa vogliamo parlare di Scalfaro che fa condannare a morte 7-8 persone per avere benefici di carriera quando Togliatti fa l'amnistia e lo nomina magistrato giovane magistrato vogliamo parlare di Ciampi che è un agente e lavora per il Sim servizi di informazioni militari poi passa al servizio di Sim Badogliano con Badoglio poi entra in Duca poi entra in Gladio poi fa carriera alla Banca d'Italia quando gli dicono che deve fare la separazione banca tesoro e ministero banca d'Italia e ministero e tesoro obbedisce l'ordine gli arriva da Washington e da Londra coinvolge Andreatta fa bene il lavoro diventa presidente della Repubblica ci sono tutte queste parti che vanno raccontate bisogna leggere per esempio di Pertini cosa dicono i suoi compagni di partito di lui questo ce l'hanno un po' censurato ma è interessante come viene fuori un altro Pertini come viene fuori un altro Scalfaro ecco direi che citando appunto Scalfaro bilanciando un po' i racconti tra quelli ufficiali e quelli che ci stai portando tu stai facendo un po' di parcondicio ecco mi ricordo che Scalfaro aveva l'ossessione della parcondicio solo per contrastare Berlusconi poi ovviamente ma bene direi che ecco questa questo segnalibro possiamo possiamo anche chiuderlo qua anche se insomma qualche accenno a cosa dicevano i compagni di partito di Pertini forse in chiusura ce lo puoi dare beh che era un collerio che era poco intelligente fu eletto proprio perché pensavano di manovrarlo ah ho capito quindi insomma non c'era neanche grande stima dici da parte di molti dei suoi compagni di partito bene andiamo però al segnalibro successivo ecco perché come hai detto tu citando il primo discorso alle Nazioni Unite a Philadelphia insomma gli americani si compiacciono in qualche modo del fatto che finalmente l'Italia stia cadendo di fatto mancavano sicuramente poche ore alla caduta definitiva e che finalmente si sarebbe dovuto assoggettare completamente alla finanza e quali sono gli uomini che di più tu hai individuato abbiano agito perché poi si arrivasse in questo risultato a questo risultato soprattutto poi nelle ore della guerra ma è interessante ripercorrere questa parte di storia con i documenti alla mano colpisce il ruolo di Alfredo Pizzoni Piacentino ufficiale dell'esercito in rapporti stretti con il mondo militare degli alleati anglo-statunitense è anche una certa massoneria però va anche detto che Alfredo Pizzoni a differenza di altri soggetti che approfitta della situazione lui è onesto e corretto e quindi bisogna essere altrettanto onesti e corretti nel riconoscerlo lui è l'ufficiale pagatore quello che finanzia di fatto la resistenza nel senso che distribuisce i soldi che gli arrivano da banche britanniche cito tutto ovviamente con le fonti e tramite una succursale svizzera arrivano i soldi alla banca commerciale al credito italiano in pratica l'attuale banca intesa è Unicredit e gli uomini che hanno determinato sono Falk sono un certo Casagrande un certo Veratti che sono diciamo la sopra Pizzoni nella piramide che gestisce finanziariamente tutto l'apparato dei partigiani anglo-statunitensi e quindi c'è un giro di denaro di circa 160 milioni al mese quindi veramente erano iperfinanziati va detto con buona pace dell'Ampi che i capi partigiani erano tutte spie al servizio di Londra a Parigi Washington piuttosto che Belgrado o Mosca e molto spesso le più grandi stragi che sono state commesse sono state fatte per generare la ritorsione dei tedeschi quindi l'odio degli italiani di noi italiani verso i tedeschi ma chi le ha commesse erano partigiani che le hanno fatte scatturire partigiani al servizio di qualche potenza straniera quindi non erano partigiani in buona fede come quelli che ci hanno rimesso la vita senza un grado elevato quindi purtroppo accade sempre che c'è qualcuno che in buona fede ci crede e ci rimette la pelle capi e capetti che lavorano per potenze straniere fatalità sarà un caso non solo ci guadagnano e tornano a casa con le proprie gambe ma prendono anche qualche soldino e qualche carriera dopo ma non sono puliti questi soggetti quindi va riscritta sicuramente la strage di via Rasella va riscritta la strage di Montesole Marzabotto è tutta una finzione quella che raccontano e come altre stragi Sant'Anna di Staziema questo è un po' il quadro che emette e tu ovviamente poi dopo di queste di queste stragi ecco ne parli in maniera più ampia ovviamente nel tuo libro citi anche le fonti e quindi invito tutti ovviamente poi per approfondire questi temi a prendere visione del libro di Lamberto Rimondio dei due volumi il primo volume e il secondo e comunque in ogni caso a seguirci nella diretta che andrà tra pochi minuti dove proporremo poi a Lamberto alcune domande e recuperiamo anche quelle che state facendo adesso nella chat live e le riproporremo a Lamberto nella fase successiva arrivando all'ultimo segnalibolo scusa Lamberto dicevi c'è un aspetto sostanziale a cui non sono ancora arrivato perché noi abbiamo parlato adesso dell'ombra dell'alta finanza e c'è come quello che io ho raccontato è la parte diciamo bassa la parte importante non l'ho ancora detta l'obiettivo strategico di questo gruppo di criminali ovvero l'elite finanziaria anglo-statunitense quelli che Giulietto Chiesa chiamava possessori universali in eterna lotta fra loro loro hanno un obiettivo strategico cioè lo dico in pillole ricordiamoci sempre la teoria di McKinder e la capacità finanziaria della Federal Reserve quindi teoria di McKinder e geopolitica che ho detto nelle puntate precedenti loro devono far mantenere l'Europa in guerra è divisa la Germania dalla Russia questo è lo schema diciamo base con due guerre sulla schiena la prima e la seconda la seconda è determinata dall'aver finanziato bolsheviche e anti-bolsheviche affinché si scontrassero la prima è più diciamo di carattere tradizionale viene a crearsi per l'assassino dell'area del trono austriaco ma c'è un fine indebitare gli stati europei lo fanno con la prima guerra mondiale e lo fanno con la seconda perché questo perché con una grossa crisi e una sola guerra non basta quindi questi sanno già che devono farne due di guerra la prima e la seconda loro hanno in mente di cambiare il sistema finanziario globale da gold standard a gold exchange standard e ci riescono a imporlo con gli accordi di Bretton Woods del 1944 quindi questo è l'obiettivo strategico il resto come ho già avuto modo di dire in altri contesti se vince Hitler o Mussolini non gli interessa nulla non sono in gioco democrazia o dittature dittatura è brutto e democrazia è bella le hanno finanziate ci mancherebbe il loro scopo è quello di arrivare al risultato cioè di cambiare il sistema finanziario riescono a imporre il gold exchange standard ovvero il mondo dollaro centrico ovvero tutti gli stati vassalli del mondo devono comprare il petrolio sono obbligati a pagarlo in dollari quindi devono comprare dei dollari per pagare il petrolio il dollaro diventa l'unica moneta convertibile in oro questo è il gioco dietro a tutto e quindi gli Stati Uniti con questo meccanismo diventano una superpotenza e tutti gli stati satelliti facendo questo gioco di comprare dollari per poter pagare petrolio eccetera finanziano il turbo armamento statunitense che ci siamo ritrovati fino adesso tra i piedi in Italia in particolare con 112 basi note e tante altre segrete questa è la realtà e adesso peraltro la stessa elite sta operando invece in senso opposto ma uguale perché la dedolarizzazione in atto porterà poi ecco una nuova moneta digitale magari che avrà il centro più in Asia rispetto ecco al dollaro però comunque sono sempre loro sono sempre loro che spostandosi per il pianeta poi insomma che sono apollidi appunto come spesso viene detto spostandosi per il pianeta cambiano un po' i protagonisti che li servono ma loro sono sempre in prima fila bene andrei quindi all'ultimo segnalibro ultimo segnalibro che è particolarmente importante perché questa è una questione che tra l'altro il nostro amico Enrico Montermini ha affrontato nel suo bel libro Mussolini gli Illuminati mi pare di ricordare ma che veramente in pochi pochissimi conoscono cioè che quello che è stato l'omicidio di Mussolini ma poi anche l'esposizione del cadavere in piazzale Loreto non è una semplice esecuzione ecco di un dittatore e una semplice rabbia popolare espressa in un momento così anche forse giustificata nel momento di culminante della guerra dei dolori della guerra ma è proprio un vero e proprio rito esoterico messo in campo da chi? è interessante Arturo è una domanda tosta questa che mi poni perché e ti ringrazio mi permette di schematizzare un po' una serie di fatti questo è un delitto plateale è un rituale a tutti gli effetti e fa il paio con il rito satanico della porta dell'inferno che in tempi relativamente recenti è stata aperta al Quirinale sono argomenti che tempo fa se me le avessero così raccontati mi sarei fatto una risata e invece approfondendo leggendo informandomi e soprattutto avendo rapporti con chi queste cose le conosce piuttosto bene dico con forza che questi personaggi usano certi sistemi per ottenere certi risultati piazzale Loreto espone sette cadaveri che è un numero particolare potevano mettere molti di più perché a Dongo ne sono stati molti di più coprono i cadaveri con l'auro all'oro c'è lo scettro quindi sono tutti simboli vengono appesi a testa in giù che è il simbolo dei tarocchi l'appeso quindi vengono recitati e c'è il sangue quindi qual è il significato qual è l'obiettivo di questo rituale è quello che gli italiani siano per sempre divisi non si riuniscono come popolo e siano deboli come popolo politicamente deboli questo è il fine di questo rituale che viene fatto a piazzale Loreto non a caso la storia ufficiale quella che ci hanno trasmesso gli occupanti anglo-statunitensi o meglio l'elite che c'è dietro ci racconta che a un certo punto le truppe naziste ammassano alcuni detenuti in piazzale Loreto e quindi per vendicare questi c'è piazzale Loreto e questa è una balla colossale perché le cose vanno raccontate in maniera completa non quello che fa comodo prima accade un attentato allora l'organizzazione della logistica tedesca distribuisce ai milanesi gratuitamente derrate alimentari un gruppo di finti partigiani nel senso che si spazzano per i veri ma lavorano per gli anglo-statunitensi provocano una strage in piazzale Loreto fanno saltare in aria il camion che distribuisce le derrate racconto tutto il fatto c'erano ottimi rapporti tra la popolazione italiana milanese e questi tedeschi ragazzotti che portavano da mangiare quindi c'è una ritorsione perché giustamente i tedeschi dicono noi vi aiutiamo se ci sono i banditi perché venivano chiamati i banditi i partigiani poi Radio Londra a novembre del 44 che li chiama per la prima volta partigiani così come Bella Ciao non è mai stata cantata durante la guerra è una canzone che viene fuori negli anni primi anni 60 quindi dobbiamo raccontare le cose come sono mi fanno ridere alcuni che con poca conoscenza dicono delle cose che sono delle grandissime fesserie passa il tempo quindi torno a piazzare Loreto e decidono di creare questo rito in quella piazza omettendo il primo assassino quindi quando finti partigiani ammazzano anche peraltro dei civili milanesi raccontano solo dalla ritorsione in avanti peccato che non dicano che i distributori di benzina dove vengono appesi è un distributore della ESO ovvero della Standard Oil ovvero della stessa compagnia di Rockefeller Chase Bank che è quella che paga 30 milioni affinché ci siano i diritti di perforazione di distribuzione dei carburanti in Italia quelli che determinano l'assassino di Matteotti per capirci laddove il mandante Vittorio Emanuele III De Bono e alcuni monarchici legati al re quindi la storia è molto diversa da quella che ci hanno raccontato però è ovvio che la storia la scrivono i vincitori e quindi scrivono un po' quello che vogliono con l'appoggio di alcune forze politiche qua in Italia sicuramente prone a sta gente quindi piazzare Loreto oltre a essere un rituale contro l'Italia è anche simpatico il come lo fanno perché ci sono una serie di registi che operano ci sono esattamente 12 tralicci alti circa 2 metri e mezzo da terra ricordo che siamo in tempo di guerra e il 28 aprile 1945 la guerra finisce il 2 maggio il giorno dopo sarà firmata la resa quindi a Milano ci sono decine e decine e decine di migliaia di truppe tedesche tra cui le SS agguerrite quindi non è un territorio felice nonostante non lo sia questo territorio felice qualcuno riesce a costruire a piazzale Loreto 12 tralicci quindi 12 registi 12 aiuti registi tutti gli operai che stendono i cavi parliamo di circa 60-70 persone in tempo di guerra c'è anche una logistica quindi qualcuno che si occupa dei mezzi dei cani tutto questo descrivo nel primo nel primo volume ci sono dei registi che sono diventati famosi Frank Capra Hitchcock c'è Lucchino Visconti appena 38enne che fa l'assistente di regia l'elenco è lungo ovviamente vengono girati diversi film di piazzale Loreto il primo in piena notte è buio poi via via che passa il tempo si arriva fino a mattina la cosa interessante è che se noi guardiamo solo un docufilm non ci rendiamo conto di quello che io sto dicendo se ne guardiamo tutti quanti vediamo che c'è facciamo caso c'è un signore con il camice bianco che evidentemente è un militare è un ufficiale che ha un certo grado che coordina tutte le persone che sono intorno che non sono milanesi agguerriti sono tutte comparse sono attori c'è la donnina con il cappellino storto che urla c'è l'altro che dà il calcio ai cadaveri ma lo rifanno questo tipo di scena la rifanno più volte e quello che cambia è sempre la luce e ovviamente i movimenti che non sono identici ma simili e quindi invito a vedere i combat film che citta Tompkins che è un agente statunitense e che svela in maniera piuttosto cruda tutto questo che io sto raccontando e che nel primo volume dettaglio quindi la storia è un po' diversa sì e direi che questo tuo suggerimento è particolarmente prezioso perché è un po' tutta l'operazione che stiamo cercando di fare divulgando il più possibile ecco il tuo libro il tuo lavoro è proprio questo perché fin dai tempi di Platone lo sappiamo ecco la caverna è l'unica realtà percepita ma oggigiorno insomma con i mezzi ben più tecnologi rispetto a quelli del 28 aprile del 45 la rappresentazione della realtà che si ha sullo schermo pare essere l'unica realtà ecco ma invece bisogna un po' cercare di aprire gli occhi per tornare essere un popolo unito dei popoli uniti tutti quanti dobbiamo provare un po' aprire gli occhi cercando di capire che insomma la rappresentazione che ci viene messa davanti sempre in ogni caso in tutte le situazioni storiche non è quella reale e questo è insomma un po' l'impegno che abbiamo assunto con te Lamberto perché insomma ripercorrere la storia d'Italia in questa chiave è veramente molto interessante e di svelatore insomma di tanti aspetti che veramente pochi di noi conoscono io ti ringrazio tantissimo chiedo a tutti gli ascoltatori di aspettare qualche istante ripartiamo subito sempre su Ancora Italia TV sul nostro canale YouTube con la sessione di domande così recuperiamo le domande che ci sono state fatte nel corso di questa diretta e poi ascoltiamo ecco le domande successive ricordo a tutti che le potete fare sempre sulla chat live o anche sulla nostra chat telegram di Ancora Italia TV e in ultimo vi annuncio che da questa puntata troverete in descrizione al video anche una piccola bibliografia ulteriore rispetto ovviamente ai due libri di Lamberto in modo che chi voglia poi approfondire oltre ai libri di Lamberto abbia anche altri volumi da poter consultare visto che siamo poi sotto Natale anche magari come suggeriva giustamente Paola Amaldi prima nei commenti da regalare a qualche parente un po' troppo distratto ecco che abbia magari più bisogno di altri di aprire gli occhi sulle vicende dell'Italia e non solo grazie a tutti a prestissimo con la prossima diretta grazie ciao a tutti a presto a presto Grazie a tutti.